Non ci sei neanche. Eccoci. No, non ci sei, non ti vedo, non sei spawnato. Ecco, si è spawnato lì. Buonasera... Cos'hai sulla schiena? Sembri Beatrix, ma fai ridere con quello che voglia. Buonasera, buonasera. Non ti rifianco a me che salutiamo i ragazzi. Il cavolo, vabbè, siamo fuori, che qua è questo stretto. Salve a tutti. Salve a tutti, bentornati, siamo su Center of the Dord. The third, il third. Il terzo, il terzo. E... possiamo iniziare, facciamo un po' di cose a caso, dai. Vabbè, prendiamo il mezzo potente. Eh, boh, da dopo lo vediamo con calma, dai. Salve, signorina. Sei sul mezzo? Sì, ho recuperato il mezzo potente. Oh! Ecco, iniziamo bene qua. Vabbè, è colpa mia perché mi sono messo davanti. Sì, in effetti. Eccoci qua. Cosa c'è sopra lì al tettuccio? La coda? La coda, la coda. Ok, allora... Allora, la missione l'abbiamo fatta, eh, però. Allora, la missione l'abbiamo. Ah, beh, l'hai selezionata tu, perfetto. Eh, derapatona! Oh! Derapatona! Poverino, aveva famiglia! Hai visto quello? Eh sì, l'avevo inascolata. Oh, che spara? Ah, sì. Ma che c'ho il minigun! Ah, bellissimo! Ho il minigun! E non lo so, ho il minigun! Ah sì, c'è sopra un minigun, tipo. Se inquadri. Eeeh! Eeeh! Queste sono le scene, quelle che ci piacciono. Ma ci copierai la prima canzone? Eeeh... No, mi fai guidare un po' me. E' pure dietro di questo stare. Faccio vedere ragazzi come guido io. E non è colpa mia, sono messi davanti gli altri, eh. Mannaglia. Beh, da qua, da qua. Ecco, già hai fatto un incidente. No, è colpa sua, lui mi ha tamponato, eh. Sempre colpa di chi tampona. Ricordiamo. E non di chi taglia la strada. Guarda! Mannaglia. Che è successo? Ah, da me l'hai presa. Oh! Il taxi va! Il taxi! No, io non penso, è solo macchina. Il taxi andava a zig zag. Non c'è il nostro, no. Si può installare quando modifichiamo l'auto. Sì, ma non so come si usa, quindi... Ma... Oh! E' colpa sua, eh! La precedenza! Le persone? Che c'è? No, vabbè, le persone. Ma perché quelle lì erano cattive, erano persone cattive. Quelle spazio non fanno cose fotte. Scusa, noi avevamo modificato la... No, no, madonna mia! Eh, guardalo! 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 No, ma che modificata l'ho fatto esplodere. Ah, ok. Ecco. Che fine ha fatto. Che fine ha fatto. Ma c'è una ruota un po'... No, no. Che è successo? Che è successo? La ruota? Che ruota? Ah, davanti! Eh, davanti! Ho dovuto guardare davanti che... Guarda, dai, dietro è messa bene, dai. Ma c'è un signore che... Ma cosa fassi? Ma cosa fanno, signore? Come corre male? Non ti ho arrestito! Povero. Non è colpa mia, sono arrivati i nostri... Per una volta che non è colpa tua. Arrivai, quello lì pelato grosso. Eccolo là, eccolo là! Tira fuori il ferro la tua arma speciale. Sì. Poi fagli la fatality, poi gliela faccio io. Però almeno tu la fai vedere se non si bugga. Allora. Tac. 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 Ah, abbiamo tipo strage a tempo qua. Sì, sì, sì. Vai, vai, corri, corri. Qua si prende il mitra, va. Eh, io ho preso il mitra, infatti. Eh, sì. Anche se non hai fatto addissimi danni, però. Però non sparare a me, eh. Ok, un po' di granatelle hanno funzionato. Oh, a sinistra è pienissimo. Ci sono anche i cecchini, mi sa. Sì, sì, sì. Ah, mi ha preso, mi ha preso. Oh, cecchino. Ma che mira, c'è schifo, se... No, però non le pistole, va. No, no, adesso sì, da lontano la pistola, per forza. Perché già fa pochi danni quel mitra lì, poi. Da lontano proprio. C'è chi non colpa in testa lo ammazzi. Oddio, molotov è quello. Oh, la tanica, quella è la tanica, eh. Sulla schiena, la tanica è sulla schiena. Ok, devo continuare. Sta arrivando. L'ho colpita, l'ho colpita. Sto caricando. Oddio. Oddio. Ok, è morto. Potevi dirlo che avevi quell'armonia. Eh, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. No, 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 c'è ancora qualche colpettino. Forse ce l'ho anch'io. Ah, sì, ce l'ho anch'io. Eh, dopo cosa l'ho, tu che... Sì, eh. Ma con quel gattino che c'ho dietro, però. Oddio. Che c'è, sì. Eh, questo... Maginao. Maginao posto nudo. Filippo piace queste cose customizzate. E per i loro bruti, io sono il mestre che lo vedete. E' un prodotto. No, lui è l'originale, in realtà. Ah, ok. È obeso, ma allo stesso tempo è super muscoloso. Oddio. Ah, ma è il nostro reato. Ah, il nostro reato. Sì, adesso sì, adesso diventa no. Infatti me lo ricordavo. Lo possiamo chiamare se non erro dopo. Però vestito lo vorrei chiamare. Eh, sì, infatti. Eccomi, amico, voi devi vestire. No time. Vabbè, ok. Però si depila, visto? Vabbè, era un quarto d'ora per fare... Ah, no, ok. Oh, no, ancora, ancora. Magari. Mamma mia Dio, mi fa paura sta cosa. Eh, sì. Che poi stavo giocando anche a difficile, quindi... Ah, sì, sì. Ah, sì, ho capito. Cosa fa? Cosa fa? Eh, si bugga, non è che... Si bugga, carica. C'è la difficoltà qua è non far buggare Oleg. Pendejo, 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 pendejo. Dai Oleg, sfonda tutto. Dai, ma che mi... Sì, veramente. Dove intorno hanno sparato. Sarebbe. Eh, sì, proprio Matrix. Proprio tutto muscoloso che... Sì, che... Ah, siamo insieme adesso, ok. Siamo entrambi appesi al... Sì, sì. No, no, devi caricare, ok. Massa, massa, Dave. Massa, massa. Ma cosa spariamo con... Cotton fiocchi? Non fanno niente. Io non vuole nessuno. Eh, perché non è potenziato. Sembra che balli. Sì. Adesso ne sparo uno alla volta, vaga, almeno. Guarda, io non ricevo danni. Ma sopravviveremo a sta cosa? Eh, sì, si è girato la fortuna. Eccola. Ma si è vestito? Ah, no, è nemico. Ci mancava lui. È nemico. Ok, lui è quello nudo, quindi. Ma ci possiamo spostare o...? Ok, non va. Comunque avevo il mio mantello che mi dava fastidio e non vedevo dove stavo sparando. Ahia. Sai che... Potrebbe essere morto. Disinesca o distruggi? Disinesca la bomba o tu giri vici? Ah, vedi? Vai, disinesca, disinesca, dai. Disineschiamo o distruggi? Ah, io lo distruggio, proprio bene. Disineschiamo, dai. Adesso dobbiamo prendere il trofeo della disinesca. Ah, no. Ah. C'è un macello, ovviamente. Sì, infatti. E lui è ancora così, bello tranquillo. Vabbè, essendo il suo agio, secondo me. Sì, sì. Beh, sarà due metri e mezzo di uomo. Anche tre. Anche tre. Bene. Il problema belga. Uh, 6.000 dollari. 6.000 dollari. Rispettino. Denaro bonus, soluzione tutto. Ah, sì. No, anche l'arma. Che arma? Arma, possessore RC. Controli, istanze, veicoli civili con il possessore RC. Ah, ok. Adesso ho oleg. Oleg, oleg. Vestito. Vestito, soprattutto. Eh, speriamo. Speriamo. Adesso dobbiamo chiamarlo. Ah, non ho filmato. Filmatino, filmatino. Facciamo saltare il ponte. Ah, non fare una gara. Sì, gli dici? Non credo. Ah, che rivali. Una volta che li vediamo questi. Sì, con i verdi, sì. Ben trovato, quelli rossi e quelli blu. Quelli verdi, sì. Sì, con i blu hanno il superpotere. Eh, sì. Ah, vedo. Ado oleg che è. Sì, è enorme. Oh! Eh, non siamo noi, non siamo noi. Ehi, un bel tuffo. Questo? Ah, il capo di verde. Oh, oh. Uuuh. Madonna. Ehi, il ponte dove lo fa saltare dal piano, sì. Sì, ecco.